Non risponde. E' Jenny? Al telefono ho staccato. Dai, ormai siamo quasi arrivati. Speravo che stare un po' lontano da casa gli avrebbe fatto bene invece. Ma quanto la fai lunga. Ma Giacomo non ha niente, è tutta scena. Tuo mamma sta piangendo. E' preoccupata per te. Nessuno le ha chiesto di venire qui. Ma vuole solo che tu torni a casa. E di quello che voglio io fare che qualcosa qualcuno. Ma vogliamo tutti la stessa cosa. Che tu stia bene. Senti zio, fammi un piacere. Porta la mamma via e riguardo. Io non mi muovo di qui. Sono già le tre. E prima di partire devo anche andare in banca. E' un segreto. Non dirlo a nessuno. Sei stato tu, bastardo. Io ti ammazzo! Zitto! No, io non sto zitto! Io non sto più zitto! Tu devi pagare per quello che hai fatto! Cosa fai? Vai alla polizia! Ma chi fa che ti dia retta? Ti sei sognato tutto. Aspettila! Tutti devono sapere quello che hai fatto! Sì, lo racconti a qualcuno! Aspettila! Aspettila! Giacomo! Giacomo! Fermati! 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 Aspetta! Dov'è Giacomo? L'angelo blu, balera viaggiante, zattera di salvataggio per chi ha sete di vino e di vita, ha deciso di piantare le alucce proprio qua. A vergate di sotto, in questa schifezza di città dove il più gran divertimento era strafogarsi di sbadigli. Questa sera si fa il teatro, teatro da ridere, spettacolo da balera con le musiche dove c'è lo schianni non ci si annoia di sicuro. Professore, mai visto uno qui dentro. Vedrete me, lo schianni, nel ruolo di un altro gestore, Grisio, per soddisfarla in tutto e per tutto. Vi accorgerete che è parecchio diverso dal qui presente Parplef. L'è fatta la tombola, squallida l'è, pidocchiosi, tristi, fuori il marcello, cambia il gioco, qua si comincia dal sé. Alla faccia di quelli che sprizzano rabbia, che non sanno godersi la gioia di essere liberi! Alla faccia di quelli che sprizzano rabbia, che non sanno godersi la gioia di essere liberi!